L'Osservatorio regionale per la salute mentale ha divulgato gli esiti della seconda conferenza nazionale sulla salute mentale, gli impegni che ne scaturiscono per l'Abruzzo. Diritti, libertà e servizi, le quattro associazioni, Cosma, Percorsi, altri orizzonti, 180 amici con l'ausilio di Arci, Cigelle e Cisle Will hanno fondato nel 2019 l'osservatorio che ha tra i suoi obiettivi la tutela dei diritti, lo sviluppo dei servizi territoriali di comunità e quello di perseguire l'integrazione sociale. Ma qual è la situazione in Abruzzo? Tiziana Arista dell'Associazione Cosma. Oggi, dopo un po', in presenza, come Osservatorio regionale sulla salute mentale, facciamo un po' il punto sulla situazione in Abruzzo, dopo la conferenza nazionale sulla salute mentale, organizzata dal Ministero della Salute, che si è tenuta peraltro dopo vent'anni, quindi è una gran novità positiva. In Abruzzo le cose purtroppo non vanno bene, siamo tra le regioni con indicatori peggiori per quanto riguarda la salute mentale, c'è un rapporto edito proprio dal tavolo tecnico nazionale, che ha messo un po' i parametri di tutte le regioni, e lì si vede che noi abbiamo ben sei parametri in cui non raggiungiamo il minimo sindacale. Quali ad esempio? Per esempio, quello che a noi ci interessa di più, che è la psichiatria territoriale. Noi vogliamo che i nostri familiari non siano ricoverati per anni, e peraltro lo vuole anche il servizio sanitario perché altrimenti spende troppo, che possano vivere a casa loro o insieme ad altri che hanno problematiche simili in appartamenti comuni, ma assistiti. Ovviamente poi c'è un altro dato che ci preoccupa. Col Covid sono emerse problematiche che riguardano gli adolescenti, alcune volte gravi, e gli stessi centri di salute mentale denunciano che non ci sono accessi, e che loro però quando poi ci sono accessi hanno anche difficoltà di intervenire per carenza di personale. Quindi questa è la seconda grande criticità. In Abruzzo i dipartimenti di salute mentale hanno poco risorse e poco personale. Quindi noi vogliamo essere alleati dei dipartimenti di salute mentale. C'è bisogno che le ASL investano sulla salute mentale. Ci rendiamo conto che col Covid ci sono stati tanti problemi, ma non può essere la salute mentale la cenerentola della situazione.